Grazie, signor Orso! Grazie mille! Dunque, per trovare Madeline la scimmia, devo cercare un posto con tanta frutta! Alberi? Che sia caldo e piovoso! Dove posso trovarlo? È davvero complicato! Ma manca ancora qualcosa! Cos'è che manca ancora? Ciao, amici! Siete tutti pronti? Sì, oggi vi racconto una storia veramente paurosissima! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È una sirena! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno! Siete tutti pronti? Freddy, che ci fai qui? Giocano!